Il Campobasso anti Castelfidardo dovrebbe assomigliare abbastanza a quello che ha sconfitto l'Olimpia agnonese. Cappelacci deve pure decidere se mandare in campo Ferrani al centro della difesa con Gattari. Il difensore è tornato in campo a Manfredonia dopo circa 40 giorni di assenza. Dietro una sua presenza da titolare ci sarà certamente un'attenta valutazione del tecnico Rosso-Blu. Sugli esterni confermati Corbo a destra e Rao a sinistra. A centrocampo nel ruolo di trequartista dovrebbe trovare nuovo spazio Bontà mentre nel ruolo di vertice basso non è dispiaciuto il molisano Grazioso una settimana fa nel derby. Inamovibile Valentini nel ruolo di Mezzala così come sono stati titolari fissi nelle nove partite di campionato giocate sia Alessandro che Bucchi. Per Cappelacci si profila un attacco del tutto recuperato quasi. Il riferimento va pure ad Aquino che ha smaltito del tutto i suoi problemi muscolari e potrà essere tra i disponibili di domani. Lo stesso Fiore ha messo in mostra una buona condizione fisica per cui è il terzo più accreditato per fare compagnia in attacco a Bucchi ed Alessandro. Per ora Todino, uno dei veri trascinatori della scorsa stagione con i suoi dieci gol realizzati, continua a rimanere fuori dai ranghi per motivi privati. Il campo basso si trova ad una specie di bivio del campionato. Cappelacci vuole tirare bilanci alla fine del girone di andata ma certamente il mese di novembre potrà rivelare qualcosa di più esatto sia sulle potenzialità del campo basso che sulle reali aspirazioni che può effettivamente nutrire la squadra rosso-blu. A sostegno del lupo si attende pure uno sparuto gruppetto di tifosi per una trasferta impegnativa dal punto di vista della lontananza. D'altronde non abbiamo mai potuto registrare un'assenza del tifo anche nella stessa trasferta di Coppa Italia l'apporto alla squadra non è di certo mancato. Al comunale di Castelfidardo, la città nota per le fisa armoniche, arbitrerà a partire dalle ore 14.30 il signor Angelucci della sezione di Foligno.